Signore, la porta era aperta. Lo so, ma mi piace farlo. Che cosa vuoi, bisnonno? Adesso tenga chiusa quella dannata bocca e mi stia a sentire, perché ho capito che tipo è lei. Lei vuole prendere la strada comoda dell'intervento chirurgico, perché ha paura. Perché se ci prova e fallisce, può prendersela solo con se stessa. Beh, signorina, mi permetta di sporle il mio punto di vista? La vita fa paura. Ci si abitui. Sembrava che il dottor Kelson stesse parlando solo a lei. Non esiste nessun rimedio miracoloso. Dipende tutto da noi. Quindi metta i piedi a terra, esca da qui e comincia a impegnarsi sul serio. E se è troppo difficile? Già, se è troppo difficile. Turk, non so per quale motivo ti stai intromettendo, ma ho solo questo da dirvi. Nella vita le cose che contano non si ottengono mai con facilità. Nella vita le cose che contano non si ottengono, ma ho solo questo da direvi, ma ho solo questo da direvi.